Ciao a tutti, buongiorno. Allora, come molti di voi sanno, io sono Chiara Dolza, sono una facilitatrice certificata di Access Consciousness, che è questa modalità di potenziamento energetico, sono una serie di strumenti per portare al prossimo livello le proprie scelte e lo spazio nel quale uno si trova. E oltre a questo sono mamma di tre bambini e come tutti quanti voi in questo momento sono casalinghissimissimissima. E infatti è qui che mi trovo, cioè a casa. Quello che è successo in questi giorni è che ho iniziato a guardarmi intorno e ho iniziato a realizzare di quanto la casa sia per molte persone quasi un dormitorio, quasi un posto nel quale vai alla fine della giornata, dove ci sono i tuoi vestiti, ma non realmente uno spazio nutriente. E ci sia anche tutta un'altra categoria di persone, tipo le persone anziane, per le quali casa diventa questa consuetudine anche abbastanza trita, nella quale casa, sempre casa, ci sono pochissime novità che interrompono questo flusso di quotidianità che si ripete sempre molto simile a se stesso. E quindi siamo tutti qua, stiamo praticando il hashtag io resto a casa, che nel resto del mondo viene chiamato social distancing, cioè consiglio di stare a distanza socialmente dalle altre persone. Io francamente mi colloco nella categoria casa quasi dormitorio e mi sono resa conto di quanto molti elementi della mia casa fossero un tipo Quindi guardare e dicevo, eh sì, quello poi devo aggiustarlo e già poi una volta vedrò, dovrei proprio preoccuparmene e via. E in questo momento siamo confinati a casa e guardando alla situazione fuori e alla situazione dentro mi sono chiesta Quale lupo mi piacerebbe sfamare? C'è questo concetto, non so se psicologico o cosa, nel quale si parla di avere due lupi all'interno di noi che vivono, che sono uno il lupo dell'amore, che a me piace più chiamare lupo delle possibilità perché amore mi sembra un po' incanalante, e l'altro è quello dell'odio oppure della paura, no? E abbiamo entrambe queste energie dentro di noi e a noi sta scegliere quale nutrire. Quindi, quale lupo nutrirai oggi? Quello delle possibilità? Quello dell'esponenzializzazione? Oppure il lupo della separazione? Il lupo del giudizio? Il lupo della preoccupazione anche, no? E una delle domande che ho iniziato a fare, le domande come tutti sapete sono degli strumenti di Access Consciousness che ci portano a guardare a una determinata energia, non con una conclusione di quello che è, quanto proprio con una domanda di, ok, se facessi una domanda riguardo a questo, se chiedessi di acquisire più informazioni rispetto a decidere che cos'è questa cosa, che aspetto avrebbe. E quindi, una delle domande che ho iniziato a fare tutti i giorni da quando è scoppiata questa, quasi questo fuggi-fuggi, torna-corsa-generale è stata, se questo non fosse un problema, ma una possibilità, che aspetto avrebbe? Questa è una domanda che potete fare, se questo non fosse un problema, ma una possibilità, che aspetto avrebbe? Ok, non posso uscire di casa, che cosa posso riorganizzare, pulire, alleggerire, cambiare? Che cosa posso rendere funzionale all'aspetto che mi piacerebbe avesse la mia vita? Anche questa è una domanda, che aspetto mi piacerebbe avesse la mia vita? E questa è una domanda anche abbastanza di sfida, no? Che ci troviamo a fronteggiare quando siamo chiuse nelle nostre quattro mura domestiche e continuiamo ad avere, non lo so, la tazza della colazione sbeccata, piuttosto che vedere che, non lo so, i nostri pantaloni della tuta non è che ci piacciono poi un grand che, piuttosto che vedere tutte le cose che possono usufruire di un livello successivo, di un upgrade, come si dice in inglese, no? E può essere anche abbastanza un confronto, farsi questa domanda, che aspetto mi piacerebbe avesse la mia vita? Perché nessuno ce l'ha mai fatta, noi spesso non ce la siamo mai fatta e quindi sembra di iniziare ad avere questa marea di informazioni, tipo ok, le relazioni mi piacerebbe che fossero così, il rapporto con i miei figli mi piacerebbe che fosse così, il lavoro mi piacerebbe che fosse così, il mio corpo mi piacerebbe che fosse così, la mia casa mi piacerebbe che fosse così, il mio guardaroba, e abbiamo veramente una marea di informazioni che ci assale, e quindi come sarebbe semplicemente iniziare a chiedere, ok, che aspetto mi piacerebbe avesse la mia vita? E ho scelto di iniziare questo percorso, questa serie, Lo scheletro nell'armadio, che sarebbe un vlog, cioè un videoblog, che ha un proposito, anzi, forse ha due propositi. Uno è creare ciò non di meno, e io sono assolutamente innamorata della parola ciò non di meno, in inglese si dice never less, e vuol dire ciò nonostante, creare malgrado qualunque situazione abbiamo reso più grande di noi, creare, e di questo parleremo, non ne parleremo magari necessariamente adesso, ma che aspetto mi piacerebbe avesse la mia vita? È sicuramente una di quelle domande che sono l'etica della creazione. E due, essere presenti con quello che è, quindi ci troviamo di fronte a una mobilità ridotta, Ok, che cosa posso cambiare qui, che renderebbe tutto quanto funzionale e contributivo all'aspetto che mi piacerebbe avesse la mia vita? Domani, da quando finisce la pandemia, da subito magari, no? E quindi mi sono riproposta di ripulire gli scheletri nell'armadio, in due modi. Uno, estremamente fisico, che è quello di attaccare finalmente la cantina, Lucilla dice, vota la grande, ciò non di meno, anch'io. Quindi un aspetto di aprire lo scheletro, aprire l'armadio, guardare lo scheletro e ripulire, sia a livello fisico, quindi di quello che può essere la cantina, ma anche una mensola, un metro quadro, un cassetto, come sarebbe iniziare da quello che è possibile rispetto ad andare al ripulirò tutta quanta la mia casa. Ok, incominciamo con un passo. E poi anche un aspetto energetico, ma fermi tutti. Dal momento che già abbiamo parlato di ciò non di meno, io vorrei condividere con voi che cos'è, cosa significa, qual è l'etimologia della parola energia. Energia viene dal greco energeia, ed è composta da en, che vuol dire dentro, e ergon, che vuol dire lavoro. In termini più fisici, dal momento che l'energia è un concetto largamente utilizzato in quella che è la fisica, la fisica quantistica, l'energia è la capacità di un corpo fisico, come il nostro, di svolgere un lavoro. e praticamente mettere una parola a quello che è l'uso attivo della forza, del movimento, della forza, chiamiamola forza, non vado a infugnermi in cose sulle quali non sono così competente. E l'energia è questa sfumatura, quasi, che permea tutte le nostre azioni e anche tutte le nostre esperienze, no? Ad esempio, l'energia può essere quando abbiamo scomodità con determinati argomenti, oppure quando abbiamo un senso di rilassamento ed estremo piacere in altri, rispetto ad altre conversazioni, oppure, parlando specificamente di questa situazione, magari la sensazione di essere prigionieri dei nostri figli e di non essere in grado di intrattenerli, oppure ispirarli, che è un concetto un pochino più... Oppure un altro evergreen di questi giorni è di non sapere a cosa porre la nostra attenzione, di essere un po' indecisi su dove, cosa, cosa ci piacerebbe creare, no? Oppure di avere un'insoddisfazione per il nostro corpo, oppure vengono su dei rimpianti, delle storie, rispetto ad aver abbandonato un qualche progetto, una qualche creazione e via dicendo. E quindi mi piacerebbe iniziare a prendere questi due aspetti che sono il ripulire a livello fisico, il ripulire a livello energetico e mi piacerebbe tenere tutto questo sotto i cinque minuti in modo che sia snello e veloce. E oggi, lo strumento di oggi è incomincio. Quante volte abbiamo aspettato qualcuno o qualcosa, una certa soglia per poter intraprendere un certo progetto? Quante volte, quanti di noi hanno detto quando avrò totto nel mio conto in banca? Allora. Quando avrò più tempo? Allora riprenderò a fare la maglia, piuttosto che passerò del tempo di qualità con i miei figli, piuttosto che mi libererò delle cose che non contribuiscono alla mia vita o avrò questa conversazione con la mia famiglia, piuttosto che quello che è. Ok. Quindi la mia proposta di oggi è di fare una lista delle cose energetiche che stiamo rimandando, che stiamo posticipando, rispetto alle quali abbiamo detto è un giorno e devo proprio farlo e alle quali non abbiamo mai posto la nostra attenzione. Una cosa che vorrei dire è qualunque progetto alla quale tu metta la tua attenzione non può fare a meno di crescere e fiorire in qualche senso. È come se mettessimo, è come se la nostra presenza fosse questo innaffiatoio energetico dove se guardiamo da una parte si anima quella scena, avvengono dei cambiamenti, oppure rimane in un'insofferentissima staticità e quindi ci rendiamo conto che c'è da essere o da fare qualcosa di diverso. Per esempio alcuni dei nostri, diciamo, le nostre scheletri nell'armadio o le nostre cose da affrontare energetiche potrebbero essere chiamare un parente al giorno, questa era una delle mie, oppure iniziare a fare dell'esercizio fisico in maniera attiva, oppure prendersi un'ora al giorno per se stesso, oppure scrivere, oppure leggere quanti di noi. Oggi sono andata nell'application di Kindle e senza che gli avessi chiesto niente, Kindle mi ha detto il tuo goal di libri letti all'anno è tre. E io ho pensato tre, neanche in India tante miseria, tre al mese, non all'anno. E mi sono resa conto di quanto, diciamo, gli standard di prenderci del tempo per noi siano stati assolutamente distorti e cambiati, no? Come se prendersi del tempo per sé non fosse abbastanza funzionale, abbastanza produttivo. E quindi inizierai a guardare le cose alle quali i nostri scaditri nell'armadio, inizierai ad aprire gli armadi, e inizierai anche solo a dire ok, questo, questo, questa è una conversazione che preferirei rimandare, e inizierai a guardarli. E in contemporanea, mi vorrebbe da dire, semplicemente inizia. e anche inizia in modo semplice, nel senso come sarebbe non sovraccaricarci con questa massa indefinita di cose da fare quanto inizierai a dire ok, questa mensola, voi non la vedete, ma c'è una mensola, questa mensola qua che aspetto avrebbe il mio studio se iniziassi a ripulirla, se iniziassi a buttare via le cose che non servono, se iniziassi a catalogarle in maniera diversa in modo che siano funzionali, in modo che siano accessibili. E magari odiate fare i lavori di caso, una delle domande che potete fare è cosa renderebbe piacevole svolgere questa attività? Che cosa renderebbe piacevole svolgere questa attività? E iniziate a guardare come realmente fare una domanda inizia a portare su delle possibilità alle quali non avevamo pensato prima, ad esempio accendere la musica, oppure versarsi un bicchiere di vino, oppure una delle cose che io faccio è fare la foto prima e dopo perché mi dà un'intensa soddisfazione. Infatti, questo è l'inizio di questa di questa serie di conversazioni, se vi fa piacere, se iniziate a guardare delle cose degli scheletri nell'armadio e ripulire i nostri scheletri fisici nell'armadio, sulle mensole, nei cassetti, nelle ante, eccetera, fare anche una foto del prima o dopo. Io un'altra delle cose che faccio è mi faccio una sfida a farlo il più velocemente possibile, quindi metto il cronometro e dico, ok, in quanto tempo riesco a sbarazzarmi di questa cosa? 5, 4, 3, 2, 1, pam, e incomincio e faccio un po' una sfida con me stessa e cos'altro, no? E infatti, se avete anche altri commenti, altre considerazioni rispetto a che cosa renderebbe più piacevole svolgere questa attività, per favore condividete. E quindi, non mi voglio dilungare troppo, questo è solo un inizio di conversazione, benvenuti allo scheletro nell'armadio. Questa conversazione avrà in doppia battuta, sia su Facebook Live che in seguito su YouTube, quindi se vi fa piacere mettere, commentare, tirare fuori quelli che possono essere degli scheletri nell'armadio, sia a livello di clutter visivo che a livello di energie bloccate che in questo momento si mostrano magari intensamente, anche solo perché passiamo 24 ore al giorno con la nostra famiglia. Mi piaceva voi commentate e mi facette sapere così vediamo dove andranno le prossime puntate. E quindi, dallo scheletro dell'armadio, ci vediamo domani. Bye!